Decima edizione del premio di Martin in occasione del centenario dalla nascita del nostro corregionale Alessandra Portinari, sono stati proclamati i vincitori di questa edizione. Per quest'anno Piero Mazzocchetti riceverà il premio di Martin non solo per le sue bravissime qualità canore ma soprattutto perché ha una storia di emigrazione che ci verrà a raccontare in anteprima. Poi c'è Francesca Salvatore che è pescarese ma vive a Londra, è una disegnatrice, ha disegnato l'ultimo film di Wonder Woman nelle sale cinematografiche Giuliana Martini, imprenditrice della comunicazione e del mondo dello spettacolo ma soprattutto è stata una delle collaboratrici più fidate di Nelson Mandela E poi ci sarà il top manager della Fiat che è galante, è nato ad Atessa ma vive a Torino ed è il braccio destro praticamente di Marchionne, un altro grande abruzzese. E poi daremo due premi Gaetano Crocetti a due donne, candida d'Aurelio, cantante e l'attrice montesilvanese Tiziana Di Tonno. Continua questa collaborazione con Alessandra Portinari che davvero con grande passione continua ad alimentare questa fondazione nel nome di Dean Martin che tanto lustro ha dato a questo territorio sicuramente continuerà a dare. Tra le varie celebrazioni del centenario e l'intitolazione della Palla Congressi è tutta una fitta rete di appuntamenti che si snoderanno fino alla fine del mese con la consegna dei premi che stanno a rappresentare il riconoscimento che l'Abruzzo dà ai suoi conterranei che hanno preso la valigia dopo la seconda guerra mondiale, era una valigia di cartone e sono andati a cercare fortuna in altri luoghi rendendo grandi magari altre nazioni. Noi non vogliamo cancellare questo legame con l'Abruzzo e siamo lì a ricordare e a premiare quelle che sono le eccellenze abruzzesi nel mondo e lo facciamo con grande piacere.